con l'ultimo targhi torcente allegro prendersi quella della bella del corpo del panello dolce ciao a tutti bentrovati sul mio canale feri ASMR questo sarà un video rilassante dedicato agli hand sounds suoni delle mani infatti voglio utilizzare tre diversi prodotti per produrre dei suoni triggerosi in primis il gel disinfettante poi l'olio di mandorle e infine questo tubetto di crema proprio per le mani spero che l'idea vi piaccia fatemelo sapere come al solito lasciando un mi piace a questo video oppure un non mi piace se l'idea non vi piace e ovviamente iscrivetevi se non siete ancora iscritti a questo canale e volete vedere altri video rilassanti ricordatevi anche di attivare la campanella in modo che possiate essere aggiornati su tutti i nuovi caricamenti bene indossate le cuffie mettetevi comodi e noi iniziamo e noi iniziamo e noi iniziamo et vai e e iniziamo da un s e 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 tra l'altro in questo periodo è davvero una buona pratica quella di disinfettare spesso le mani ovviamente dopo averle lavate quando non è possibile utilizzare il sapone perché si è fuori casa mi raccomando rispettate tutte le norme per la misura di sicurezza e 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 sapere nei commenti se riuscite a sentire la differenza tra i tre suoni con le mani che vi propongo in questo video e quali tra questi quello che trovate più rilassante a molte persone piacciono i suoni bagnati altri preferiscono quelli secchi un suono secco può essere lo sfregamento delle mani così finger fluttering quando sulle mani non è presente alcun liquido se faccio la stessa cosa avendo cosparso di olio le mie mani allora tengo un suono bagnato che lo che che quelle che 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 assaggiare fino a completo assorbimento sei del team suoni secchi o suoni bagnati? userò una salvietta vorrei crema a mani di burro di calvetti trattare la palata e lasciare le ruote elastiche per la testa per carico per l'interno di cominciare a sostarne per conto con gli occhi e conservare anche per rimanere il calore e anche questo ha un profumo meraviglioso rispetto all'olio ovviamente è più denso e si assorbe più facilmente ma è comunque molto nutriente rimane piuttosto grasso fin quando l'assorbimento non è completo la suona più delicata meno bagnata se chiudi gli occhi forse puoi avere l'impressione di un massaggio la suona 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 Grazie a tutti